C'era una somma di denaro che doveva essere restituita da parte della vittima nei confronti del Regnolo, cifra che non era stata restituita, a fra l'altro anche di una certa consistenza, e una causa più prossima che era quello il fatto che la vittima si era frapposto in un tentativo di estorsione nei confronti di un imprenditore di Gela. Queste due cause e soprattutto la ricerca spasmodica di denaro per organizzare un traffico di droga hanno decretato la morte del Seguino Domenico. Si tratta appunto di un omicidio fatto in maniera plateale, fatto in piazza, in un orario ancora 19.45, in un contesto di festa, perché comunque siamo a pochi giorni dal Natale, fatto nel presepe della Chiesa Madre, e che sicuramente si poteva fare in altra maniera, però la decisione è stata quella della platealeità perché si doveva dimostrare la forza del gruppo criminale. E naturalmente anche i gesti, sono stati commentati il fatto che la vittima è stata tinta alle spalle, queste cose invece si fanno di faccia, quindi ci sono stati anche di commenti in tal senso. Era sicuramente un libore forte determinato da questo affronto diretto che Seguino l'ha fatto non restituendo questa somma di denaro, quindi questo sicuramente è anche un altro aspetto importante, il tentativo di estorsione fatto da parte di un soggetto che naturalmente ne indeboliva la forza, perché nel momento in cui si frapponeva in un tentativo di estorsione, cioè faceva venire meno la forza del gruppo criminale. Quindi al di là dell'aspetto economico che è sicuramente importante, c'è anche questo aspetto che è fondamentale in una consorteria mafiosa.